Buonasera, buonasera brava gente, stasera chi è la prima è Gabriella, Gabriella pace bene, un pace bene a tutti voi brava gente e ci prepariamo, ci prepariamo ad attendere Gesù, a far sì che rinasca nel nostro cuore e lo facciamo con un brano stasera tratto dal capitolo di Matteo che ci descrive i tre annunci della nascita, ma ascoltiamo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e a lui sarà dato il nome di Emanuele che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Brava gente, ci troviamo attraverso questo annuncio immersi e avvolti dal verbo della salvezza vorrei dire, perché vedete a Maria viene detto non temere, a Giuseppe viene detto non temere, ai pastori viene detto non temere. E allora anche a noi, dal momento che ci vuole salvare dei nostri peccati, ma ha bisogno del nostro desiderio e del nostro volere. Abbiamo bisogno di mettere insieme queste due realtà dentro di noi. Il desiderio che c'è, ne sono sicuro, che ognuno di noi desidera essere salvato, desidera essere figlio di Dio, desidera il buono, il bello. Però poi, accanto a questo verbo desiderio o desiderare, ci deve essere anche il volere. Lo voglio? Sì o no, brava gente? Lo vogliamo? Quella che noi abbiamo ascoltato è comunque un'annunciazione. Il cardinal, e ora vado alla meditazione, il cardinal Gianfranco Ravasi accenna a ben tre annunciazioni della nascita di Cristo, che si ramificano in tre distinti annunci. Il primo è quello rivolto alla futura madre, Maria. Il secondo è indirizzato al padre legale, Giuseppe. Mentre il terzo ha come destinatari un gruppo di pastori nomadi. Quest'ultimo annuncio rivolto ai pastori avviene in occasione della natività. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Si diressero così a Betlemme, dove trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. La Sagra Famiglia viene circondata dai pastori, i rifiutati del Sinedrio, i marginali, che Luca però vede come la prefigurazione della Chiesa di Cristo. Del secondo annuncio, invece, troviamo tracce ancora nel Vangelo di Matteo, che abbiamo ascoltato stasera, che affronta la vicenda dal punto di vista di Giuseppe, evidenziando la tentazione poi raccontata del promesso sposo di ripudiare Maria. Mentre però stava considerando queste cose, e questo è Giuseppe, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destrato dal sonno, Giuseppe obbedirà, prenderà in disposa Maria, la quale appunto darà alla luce il figlio Gesù. Ed è interessante perché, vedete, in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, in questa breve meditazione che ci siamo proposti, è interessante che Gesù significa colui che salva, è bellissimo, che salva dal peccato. E non solo, ma l'angelo dice sia a Maria sia a Giuseppe, egli viene per salvare l'uomo dai peccatori, dai peccati, dai peccati, no? E credo che questo sia un po' come se il Signore ci dicesse, guarda io ti voglio fuori dal fango, fuori dalla palude, io ti voglio fuori dalle situazioni che ti sporcano, io ti voglio pulito. E allora stasera credo che nei commenti potremmo scrivere insieme, Gesù, 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 Gesù E' bella quando si fa pulizia in casa, una casa pulita, è bella quando ci facciamo una pulizia noi, una bella lavata, sono lavato, sono pulito, o ancora è bello soprattutto quando siamo puliti dentro, quando la nostra vita davvero fa pulizia delle cose che non servono, delle cose che ci sporcano, questo significa ti voglio salvo per la salvezza dei peccatori, brava gente. E andiamo avanti, andiamo avanti. Nella meditazione, nel foglio dopo la meditazione, a pagina 56, ognuno di voi può scrivere, Giuseppe è l'esempio di come l'imprevisto, quando accolto con positività, può rendere migliore la nostra vita. Allora io vi domando, hai anche tu un'esperienza di questo genere, che è quando accogli la vita così com'è, poi si trasforma in positività? Ecco, prova a riportare alla tua mente un momento in cui ti sembrava che ti cadesse il mondo addosso, e invece accogliendo quell'evento in modo positivo e con fede, hai scoperto una nuova positività, un nuovo cammino. Vedete, questo è un esercizio, è caduto il foglio, è un esercizio che davvero tutti dovremmo fare, perché sono sicuro che molti di voi possono testimoniare questo, tanti di noi possiamo testimoniare questo. E andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti. E ora concludo con una preghiera, la preghiera di Santa Elisabetta, che così ci fa pregare stasera. O Maria, tu attiri il cielo, ed ecco il Padre ti consegna il suo verbo, perché tu ne sia la madre, e lo spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te, Maria, vengono in tre, è tutto il cielo, che si apre e si abbassa fino a te. O mare del verbo, dimmi il tuo mistero, dopo l'incarnazione del Signore, come passassi sulla terra tutta sepolta nell'adorazione. Custodissimi sempre un abbraccio divino, che io porti in me l'impronta di questo Dio di amore, che io porti in me l'impronta di questo Dio di amore. Ci pensiamo, brava gente, portare dentro di noi l'impronta del Dio amore. Quante cose cambiano, quanti miracoli avvengono, quante situazioni difficili si sciolgono e diventano semplici, semplici. Voglio portare l'impronta del Dio amore. Andiamo avanti. Forti, forti, forti. Allora, portiamo questa impronta del Dio amore. Forti, 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 brava gente. Forti, forti, forti. E allora, andiamo avanti. Cosa ci dobbiamo ricordare? Ci dobbiamo ricordare che il 16, sabato prossimo, alle ore 16, avremo l'incontro e ci scambieremo gli auguri con tutta la brava gente qui a Roma. Mi raccomando, puntualissimi. Sabato prossimo, alle 16 del giorno 16. E' facile, no? 16-16. Ce li giochiamo sui numeri, no? Ma sai che non vanno bene 2-16, no? Che scherzo, eh? Ogni tanto emerge la verve napoletana, eh? E avanti, avanti. Poi ci faremo un po' di avvisi sabato. E vediamo se riusciamo, ci mangiamo una fettina di panettone, eh? Che ne dite? E coraggio, coraggio, eh? Brava gente. E allora, vado ai tre saluti. Marisa vorrebbe gli auguri per il figlio Salvatore, eh? Che è compleanno, ogni bene, ogni bene, eh? Dal Belgio, eh? E allora saluto anche tutti quelli che dal Belgio ci seguono. Fiorella, compie 80 anni, eh? Fiorella, ogni bene, eh? Una benedizione a te. Avanti, avanti. Mentre Luca, eh? Compie 75 anni, eh? E mi ha scritto una cosa bella. Ringrazio il Signore per tutte le cose belle che ho avuto nella mia vita, eh? E avanti. Ecco, questo è quello che potremmo dire, abbiamo detto nella meditazione stasera. Cioè, riscoprire davvero le tante cose belle, eh? Che il Signore fa con ciascuno di noi. E io sono convinto che le fa, brava gente. Lo vedo dai vostri occhi, da quello che mi scrivete. E avanti. E allora, andiamo avanti? Andiamo avanti. Leggo solo tre commenti e poi chiudiamo, eh? Vediamo un po'. Gesù, pensaci tu. È vero, è vero. Paolo dice, buona una sera a te. Lucia. Carmele e Graziella, eh? Vi saluto. Ah, avete scritto sabato, sabato, sedici ore e sedici, va bene, eh? Cara e... Buonasera, Patenzo, grazie a tutta la brava gente. Sabato, sedici. Vabbè, chi ci segue poi faremo la diretta, chi non può venire, eh? Gesù lo sa, Lucia, ogni bene. Preghiamo per queste cose che Gesù sa, eh? Voglio portare l'impronta di Dio nella mia vita. Benissimo. Appossa allora. Ci possiamo fermare? Sì? Vediamo se c'è un altro commento. Vicendevole preghiera per tutti. Sì, perché quella è la nostra forza, eh? Non ci piove, non ci piove. Quella è la nostra forza. Coraggio sempre. Chierita. Vediamo ancora. Ah, che Dio ti benedico. Questa è la cosa più bella che mi potete dire, eh? Brava gente. Teresa. Eccoci qua. Allora ci possiamo fermare, vabbè. Tutti noi abbiamo bisogno, è vero, è vero, è vero, eh? Apposta allora. Andiamo avanti. Annalisa ha scritto Gesù, confido in te. Angela ha scritto San Francesco, proteggici tutti. È vero. Giacomo, Rosi, ogni bene, eh? Ah, fatemi sapere, sì, una cosa buona. Fatemi sapere più o meno chi è che viene, ok? V'aspetto. Forti, forti, forti. V'aspetto. Forti, forti, forti. Eh? E andiamo avanti, andiamo avanti, ok? Allora, buonanotte brava gente, per chi si affaccia domani, domani, in questo nuovo giorno, buona giornata, brava gente, eh? Apposta.